Ciao a tutti, oggi vi faremo vedere degli esercizi particolari. Io lo so che in palestra siete abituati ad allenare i soliti muscoli, i pettorali, i glutei, gli addominali, ma oggi vedremo degli esercizi per i muscoli facciali. C'è qui Michela che ci dimostrerà come per esempio rinforzare un muscolo orbicolare. Vediamo un attimo. Ok, facciamo pressione con le dita sulle guance e opponendo resistenza buttiamo fuori l'aria lentamente, piano piano. Ok, grazie Michela, perfetto. Questo è detto anche esercizio del pesce a palla, emotivo, si capisce chiaramente. Adesso vediamo un po' di stretching. Allora, un esercizio di allungamento del muscolo elevatore del labbro superiore e dell'ala del naso. Ok, punta del naso verso l'alto e con il labbro inferiore spingiamo il labbro superiore verso il basso. Teniamo la posizione qualche secondo e poi rilasciamo. Grazie. Sono esercizi faticosi, provate a farli a casa, non sono semplici. Facciamo un esercizio adesso di allungamento della lingua? Faccio io il modello adesso. Ok, allora come vedete Fabio cerca ogni volta che prende aria di toccare con la punta della lingua la punta del naso. Ogni volta che spelle aria di toccare con la punta della lingua il mento. lo fate alcune volte e poi basta. E poi basta, anche perché è piuttosto faticoso. È vero, provatelo. Altrimenti finiamo poi in palestra per fare sempre gli soliti esercizi, ovvero scuota fondi, scuota fondi, scuota fondi, scuota fondi. Ciao! Ciao! Ciao!